Il Governo regionale prende tempo e continua a rinviare l'approvazione del bilancio, un adempimento essenziale non solo per l'imprenditoria locale. E' quanto sostiene il consigliere regionale del PDL Forza Italia, Paolo Castelluccio, che condivide la denuncia di Confapi Matera. A pagarne le conseguenze in maniera più pesante, aggiunge, sono tutte quelle imprese, specie piccole e medie, che a seguito di avvisi pubblici regionali hanno anticipato proprie risorse per realizzare investimenti e dovranno aspettare ancora molto tempo per ricevere le agevolazioni concesse. Ma la precarietà della finanza regionale, afferma ancora l'esponente politico, si fa sentire in tutti i settori dell'economia e sui servizi essenziali per i cittadini. La Giunta non nasconda le sue difficoltà, in buona parte derivanti dalla riduzione delle royalties petrolifere, e recupera il tempo perduto, conclude Castelluccio, osservando che non c'è ancora una proposta di bilancio preventivo da sottoporre all'esame delle commissioni consigliari, che dovranno lavorare nell'esclusivo interesse delle nostre comunità locali.